Una preghiera dedicata al lavoro, non solo per manifestare gratitudine, ma anche e soprattutto per ricordare l'importanza dell'umanità e della collaborazione fra le genti per la costruzione di una coscienza collettiva, radicata nei valori, sperimentando la dimensione dell'essere anziché quella dell'avere. Una veglia dal tema Farsi prossimo, inteso come prendersi cura dell'altro, svoltasi nei giorni scorsi presso la Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano, presieduta da Don Giampaolo Romano, direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale sociale del lavoro. E non è un caso che la riflessione e le testimonianze abbiano avuto luogo proprio all'interno di una struttura per l'accoglienza di anziani, che rappresenta il simbolo di coloro che necessitano assistenza. Un luogo dove operatori qualificati ogni giorno donano il proprio contributo professionale, ma soprattutto fanno fronte a tutti quei numerosi bisogni immateriali, quali il senso di vicinanza e l'ascolto, così essenziali per l'esistenza di ogni individuo ad ogni età. In molti hanno preso parte il momento spirituale, scandito fraccanti, preghiere, slide, nel segno della parola di Papa Francesco e del ricordo di Don Guanella, riflessione e testimonianze inoltre, da Renzo Epis, direttore sanitario della Fondazione e dal presidente Doriana Natta. Prendersi cura non è anzitutto qualcosa che attiene ad una tecnica, ad una competenza specifica, ma attiene al cuore, oltre che alla mente, attiene anche alla capacità di farsi vicino, prossimo appunto a chi soffre, ad avere compassione, quindi occorre anzitutto essere davvero uomini e donne. Lavorare offrendo attenzione, ascolto, rispetto e pazienza a chi ti è accanto, doti da riscoprire, specificità che arricchiscono spiritualmente la dignità lavorativa, conservando l'umanità, un tendere alla mano ideale. L'appuntamento è stato anche occasione per ricordare l'impegno fattivo della diocesi grazie all'iniziativa Fondo Rete Lavoro, che si propone di aiutare persone in difficoltà economica ed occupazionale. L'accesso al fondo avviene attraverso la rete Caritas, Parrocchie e Acli. Il Fondo Rete Lavoro è una nuova ulteriore fase del fondo di sostegno per il lavoro, per le famiglie, da parte della nostra diocesi. Aiutiamo mettendo a disposizione quello che abbiamo, quello che raccogliamo dalla generosità delle nostre comunità, di tante persone, cercando di aiutare attraverso corsi di formazione, sostenendo magari qualche inserimento lavorativo, le persone che hanno bisogno appunto di reinserirsi nel mondo del lavoro. Però la sua caratteristica è anzitutto accompagnare queste persone, ascoltandole, e poi l'altra caratteristica è essere il più possibile aperto ai contributi di tutti.